Finalmente in campo nel 2022 il campionato di eccellenza mette di fronte Renato Curiangolana e Alba Adriatica in situazioni diverse di classifica ma con stesse motivazioni. Mister Rachini perde Emanuele Farias a Casato all'Urbania nelle Marche mentre De Amicis conferma Torre al centro dell'attacco con i cramellà inizialmente in panchina. Fischia Cavacini di Lanciano. Provano a colpire di astuzia gli ospiti. Paravati si gira bene su Casimirri, conclusione che termina alta. Prima frazione ricca di episodi da Moviola. Annullato il primo gol a Torre sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Passamonti con una decisiva deviazione di Capitan Fabrizi. Risponde l'angolana Cichella aziona Ruggeri che pecca di eccessivo altruismo. Di Stefano e Verissimo si salvano. Altro giro, altro filmato da VAR. Spiovente di Casati, spizzata di milizia e Cichella che deposita in rete prima dello sbandieramento dell'assistente. Da capire se il centrocampista fosse avanti o dietro al compagno al momento dell'assist. Verticalizzazione improvvisa per Torre che in pallonetto supera Puddu. Indovinate altro fuorigioco tra le proteste Terramane. Tacco di Casati per la corrente Miani che sbaglia da ottima posizione. Il tentativo finale di Paravati non è preciso. Le squadre vanno negli spogliatoi. Più calda la ripresa. Branno suggerisce per Torre colpo di testa che va a sbattere sulla traversa. Pressione vincente di Pincelli su Farindolini. La bomba dell'otto si spegne sul fondo. La Renato Curi-Angolana reagisce e passa in vantaggio. Miani confeziona il più uno al fantacalcio per Lombardi. Destro che piega i guantoni di Verissimo e 1-0 firmato dal classe 2002. Semplicemente devastante il numero 7 di Mr. Rachini nei 90 minuti. Miani sente la partita dopo i trascorsi al Benzi. Colpo di testa ravvicinato che non inquadra la porta. Sguscia via Passamonti che mette in difficoltà milizia. Casimirri appoggia col brivido per Puddu. Nel finale Icramellà scambia con Torre ma cestina tutto dai 20 metri. La partita e i tre punti vanno alla Renato Curi-Angolana che risale in classifica sconfitta con onore una buona alba adriatica. Mister Rachini non la partita più bella di questa stagione per numero di occasioni però una vittoria importantissima. Sì sono d'accordo oggi abbiamo fatto la partita che dobbiamo fare cioè di sostanza abbiamo rischiato poco se non in qualche situazione di palla inattiva che io sapevo che loro ci potevano mettere in difficoltà. Poi ho detto che la partita era equilibrata, si poteva sbloccare su qualche inserimento di qualche centrocampista e in effetti poi è andata così. Grande palla di Simone per Lombardi è un gran gol. Poi penso che abbiamo rischiato poco se non in una circostanza però ripeto questa è la partita che piace a me, è una partita veramente di grossa sostanza dei miei ragazzi. Tre punti anche di nervi per dimenticare l'addio di Farias? Sì diciamo che eravamo un po' amareggiati e anche un po' delusi comunque insomma è stata una scelta del calciatore, un giocatore che ha fatto molto bene in questa prima parte di campionato quindi sicuramente ringraziamo Ema per quello che ha fatto e quindi oggi ho chiesto di mettere qualcosa in più alla squadra e i ragazzi mi hanno ascoltato. Sì, il primo tempo diciamo è stato abbastanza equilibrato, nel secondo secondo me stiamo facendo meglio noi soprattutto quando ci hanno fatto gol avevamo creato due o tre situazioni per passare in vantaggio per cui direi che il risultato è assolutamente bugiardo, noi meritavamo almeno il pareggio se non la vittoria per come l'ho vista io. Sono dispiaciuto perché mi rimane la prestazione, dico la verità pensavo di trovare una squadra, la mia ancora indietro di condizione perché per tutti i problemi di Covid che abbiamo avuto non ci siamo allenati quasi pochissimo e invece ho trovato una squadra che ha corso fino alla fine con un'ottima mentalità, l'ha trattato su tutti i palloni, ha messo in difficoltà una signora squadra come l'Angolana. L'Angolana è una squadra che stava in condizione perché c'era due partite nelle gambe, non ci lo dimentichiamo, ce l'abbiamo giocato assolutamente alla pari dell'avversario se non siamo stati superiori secondo me, per cui certo rimane la mare in bocca per non portare niente ad Al Badriano, nessun punto, però ripeto dal punto di vista della prestazione sono contento perché ero abbastanza preoccupato prima della gara per tutte le cose che ci sono successe in questi giorni. E' inutile stare qui a ricordare quello che ci è capitato, volevo rivedere il gol che ci hanno annullato, mi sembrava un gol regolarissimo, però purtroppo noi con le terne di Lanciano non siamo molto fortunati, anche nella distribuzione dei cartellini non mi è piaciuto per niente, questo non è una scusa, un alibi assolutamente, non me ne frega niente, però dico che la terna non mi è piaciuta assolutamente. Ci mandano sempre albi di terne di Lanciano, non credo che ci sono soltanto albi di Lanciano in Abruzzo, speriamo che ci mancano alcuni da pescare, non dico da termo, dall'Agole perché con questi siamo poco fortunati.